Conoscere il territorio è fondamentale per poterlo amministrare, come quando si deve ripristinare la legalità violata dall'abusivismo edilizio e dal cattivo uso delle risorse e dei beni comuni. L'amministrazione comunale e l'osservatorio vesuviano, che da sempre svolge attività di ricerca sui processi naturali del sistema terra, hanno sottoscritto un protocollo di intesa che servirà a controllare e regolare le attività di trasformazione del territorio. La nostra esperienza ci dà anche possibilità di avere in generale un monitoraggio del territorio, quindi usiamo tecnologie varie, anche delle osservazioni e questo è il nostro patrimonio di conoscenza e capacità che mettiamo a disposizione tramite questo protocollo per un uso e un controllo, in qualche modo, un monitoraggio di quelli che sono in generale tutti gli assetti territoriali e quindi anche diversi tipi di rischio. I due enti metteranno in relazione le strutture che meglio potranno interagire, a partire dal sistema informativo territoriale del comune ed il laboratorio di geomatica e cartografia dell'osservatorio, allo scopo di esplorare ambiti di ricerca critici ed innovativi come la sicurezza del territorio e l'elaborazione di modelli di sviluppo coerenti con lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali. C'è la volontà di scambiarsi i dati, quelli in possesso del comune, quelli in possesso dell'osservatorio vesuviano perché in comune abbiamo l'obiettivo di una gestione corretta del territorio. Questo insieme di dati che accomuniamo consente all'uno all'altro di avere, sì, un governo del territorio in materia di protezione civile ma anche di trasformazione fisica del territorio, quindi non solo il territorio naturale ma anche quello costruito. Questo consente anche a noi un monitoraggio maggiore delle edificazioni in atto, ai vi comprese quelli abusivi. L'ambito di intervento di questa collaborazione è assai ampio e potrà spaziare dalla protezione dai rischi naturali al monitoraggio del complesso sottosuolo napoletano, delle fognature e dell'ambiente urbano, ma anche il sistema di rilevamento termico nell'ambito delle politiche di riqualificazione dell'edificato urbano con incentivi e agevolazioni per il risparmio in campo energetico. Per conoscere il suolo, conoscere il territorio, preservarlo, che è un bene comune, quindi siamo molto contenti soprattutto in vista della valorizzazione di tutto il nostro territorio, l'area flegrea e anche utile in vista del piano di protezione civile che stiamo approvando come amministrazione comunale.